Musica 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 Ancora una volta provato ad andare via, ottimo L'assist per il pivot Eleonora Coloredo Musica Mangone, neo entrata, appena entrato col mancino Va subito a segnare una rete Importantissima che sblocca in questo periodo Musica 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 Contropiede dall'altra parte, gran lancio di Panajotova per Podda che fa più nove Match Game set and match, forse Musica 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 Continua in semifinale Di Coppa Italia alle finals di Salsomaggiore 36-26 Musica 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 Musica